L'estate è arrivata in fretta, andiamo dentro un po' più fresco Un sogno nel cassetto per Carmen Consoli. Volevo fare la rock star e la favola che ha accompagnato la cantautrice in tutto il suo percorso artistico. Anche quello che manca, che forse arriverà, è racchiuso in questo disco con qualche paura ancestrale. Il mio sogno era quello di suonare, di possedere una chitarra vera che mi fu regalata poi dai miei genitori. E questo sogno si è trasformato in un progetto, in una realtà. Poi ci sarà il momento del sogno, ci risarà il modo di rivalutare invece il sogno come arma effettiva o arma, come mezzo per poter realizzare delle cose poi concrete. Adesso voglio mettere su uno spettacolo di musica, non voglio utilizzare sequenze, voglio che sia tutto basato sul bioritmo naturale. Voglio imparare dagli alberi a suonare.